buongiorno a tutti grazie per questo invito mi è stato proposto un tema assolutamente impegnativo verso una cultura assicurativa nuovi rischi nuovi prodotti nuovi modelli distributivi cercherò di fare qualche considerazione con l'aiuto di alcune slide che ho preparato in cui si cerca di dare appunto una un'idea di questa di questi aspetti tutti estremamente interessanti a partire da un paio di considerazioni che non sono certo nuove ma che sono balzate alla ribalta nel corso dell'ultimo anno di gravissima emergenza sanitaria questi due aspetti sono da un lato la bassa copertura assicurativa sul lato danni questo è un indicatore ben noto il rapporto tra premi danni su pil nel 2018 eravamo all'1 e 9 per cento in termini appunto di premi danni su pil vale a dire eravamo sotto la metà del livello medio dei paesi oxe e in più stavamo a livello italiano su un trend decrescente nel senso che nel 2006 questo stesso rapporto era al 2 5 per cento quindi un livello basso e persino in in riduzione questo significa volendo guardare la cosa da un punto di vista diciamo così ottimistico che c'è un ampio spazio disponibile per l'ampliamento del business spazio che io credo possa essere adeguatamente almeno in parte riempito negli anni a venire la seconda considerazione che anche questa non nuova ma altrettanto importante vorrei fare è quella relativa alla digitalizzazione dell'economia italiana questo è un indice famoso desi digital economy and society index costruito per la commissione europea qui rapportato con riferimento al 2020 al 2015 e si vede chiarissimamente come l'italia nonostante i progressi che ci sono stati in questo quinquennio sia ancora fortemente arretrata rispetto a tutti gli altri paesi dell'europa i 28 paesi dell'europa che sono illustrati come vedete in questa slide e uno delle una delle componenti importanti di questo indice quella relativa al capitale umano e agli skill information technology ci vede addirittura ultimi di tutta la compagine europea questo è un segnale secondo me d'allarme importante che credo vada colto per poter rispondere appunto alle esigenze che dicevamo prima di nuova cultura assicurativa che cosa sta facendo il mercato sotto questi punti di vista abbiamo un osservatorio interno che verifica periodicamente la situazione e le maggiori innovazioni e al momento ci vengono segnalate cinque aree importanti di eh particolarmente dinamiche di eh innovazione quella della mobilità ve l'elenco molto brevemente molto velocemente quella della mobilità con soluzioni anche per le nuove forme di trasporto con flessibilità nel tempo nello spazio nelle modalità di viaggio con l'inclusione anche di forme nuove di sharing e di mezzi pubblici l'area salute in cui si cerca di superare la tradizionale copertura infortuni e malattie per esempio attraverso strumenti digitali di prevenzione di interazione con la clientela per esempio attraverso chat box eh l'area della assistenza domiciliare con la fornitura da parte delle compagnie di servizi medici fisioterapisti infermieri badanti baby pet sitter consegna domicilio di prodotti alimentari e di prodotti farmaceutici l'area a casa con coperture per le catastrofi naturali per il terremoto per l'alluvione coperture per l'inagibilità spese d'albergo spese di di trasloco eh molto importante ehm ci segnala l'osservatorio l'area cyber eh ovviamente c'è stata una crescita esponenziale dei rischi informatici in particolare legata allo smart working e quindi allo scambio di dati sensibili ai sensi del regolamento sulla sulla privacy con rischi di cyber crime e quindi di di rischio passivo ma anche di rischio attivo di rischio operativo momenti in cui per errore vengono a essere diffuse informazioni sensibili e quindi molta attenzione alla protezione dell'identità della reputazione dell'immagine aziendale con la fornitura di servizi di tutela digitale e di ingegneria reputazionale eh l'ultima area eh rilevante in questi ultimi tempi è quella delle piccole e medie imprese dove si rileva una sensibile attenzione ai rischi da danni ambientali all'assistenza dei clienti e anche all'acquisto da parte delle compagnie di assicurazione del credito d'imposta generato per il super bonus 110 per cento sul lato vita eh sappiamo che da alcuni anni 6-7 anni eh siamo davanti a uno scenario eh assolutamente eh senza precedente quello di ultra bassi tassi di interesse eh in questo grafico vedete i tassi di rendimento governativi a 10 anni eh dell'Italia della Germania la Germania ormai da anni anche su questo orizzonte così lungo sotto zero noi eh siamo molto vicini allo zero è chiaro che in queste condizioni la gestione dei prodotti vita tradizionali è estremamente eh problematica e quello che eh ci segnala il mercato è un'espansione delle polizze multirami in particolare ramo primo e ramo terzo mix di questi due rami con un rischio finanziario a carico del cliente sempre più consistente eh l'area degli investimenti ISG altra area di innovazione molto molto interessante e molto eh significativa vale dire gli investimenti appunto che cercano di coniugare sia la performance finanziaria sia la sostenibilità ambientale c'è una novità importante eh dell'anno scorso vale a dire la disponibilità oggi di una tassonomia dell'Unione Europea delle attività ecosostenibili il Technical Report del marzo 2020 con la possibilità quindi di avere rating ISG affidabili che possano orientare l'investimento da parte delle compagnie di assicurazione eh per far capire quanto l'Europa si è impegnata su questo fronte ehm ho riprodotto qui un un interessante grafico in cui si vede come c'è stato negli anni soprattutto a partire dal dal dopo crisi eh una disaccoppiamento tra la crescita del PIL linea gialla e la crescita dei fattori inquinanti in particolare CO2 vedete che dal più o meno 2008-2009 c'è proprio un calo netto di questi fattori inquinanti eh rispetto invece a una crescita eh sostanziale del del prodotto interno loro. La cosa si verifica molto meno negli Stati Uniti dove eh l'azzeramento dei fattori inquinanti eh si è verificato praticamente negli ultimi due anni. Eh se potessimo mettere a confronto l'Unione Europea con altre aree come quella giapponese ma quella cinese vedremo come eh l'Europa assolutamente eccelle da questo punto di vista nella sensibilità ambientale nell'impegno nei confronti appunto della della produzione di tipo green eh chiudo con alcune considerazioni sulle innovazioni di processo ehm da questo punto di vista è al centro dell'attenzione ormai da anni eh la direttiva sulla distribuzione assicurativa e sulla disciplina cosiddetta POG Product Oversight and Governance che ha reso fondamentalmente circolare il processo di creazione e distribuzione dei prodotti assicurativi. C'è la necessità di definire un target market, ci sono i test di adeguatezza pre e post vendita, occorre in sostanza fare in modo che ci sia valore per i clienti, quindi value for money. E le nostre analisi che stiamo conducendo in queste settimane ci lanciano alcuni warning, ci sono eh alcuni prodotti con costi elevati che abbattono eh e annullano la profittabilità del cliente, ci sono prodotti con insufficiente copertura assicurativa, ci sono prodotti profitevoli solamente su scenari assolutamente irrealistici o su orizzonti molto lunghi, ci sono prodotti con limitazioni ed esclusioni che svuotano completamente le coperture assicurative e clausole così ambigue che generano contenzioso. Eh è chiaro che una situazione di questo genere deve essere in qualche modo rimediata e eh annullata, credo che le tecnologie eh digitali possano essere un aiuto in in questo senso, sono un fattore di espansione dal punto di vista anche geografico ma un fattore anche di approfondimento e di creazione di prodotti tailor made per le esigenze dei clienti. Ci sono tecniche di intelligenza artificiale che aiutano a individuare i bisogni sia consapevoli che non pienamente consapevoli da parte del cliente per ridurre quel gap che dicevamo all'inizio eh essere caratteristico ormai da troppi anni della del mercato italiano. Purtroppo un indagini recenti ci dicono che non tutta la distribuzione assicurativa è consapevole di questo, c'è un 24% di agenti che non pensa alla digitalizzazione, all'offerta digitale, mentre invece eh credo che sia una previsione non troppo eh incerta quella che vede nell'arco di dieci anni eh la domanda di prodotti di tipo digitale anche per l'emergere delle generazioni eh dei nativi digitali eh passare dall'attuale 30% a un livello molto più ampio, si parla dell'80% o oltre. È chiaro che se gli spostamenti della domanda saranno di questo genere eh l'offerta è bene che si faccia trovare preparata a rischio altrimenti di perdere consistenti quote di mercato naturalmente a danno delle eh forme più tradizionali di eh produzione e di distribuzione. E con questo è tutto, vi ringrazio molto e auguro a tutti un buon proseguimento di giornata. Grazie.